Tutto bene con il trekking sulle montagne dell'Altopiano, un po' meno per quello che doveva rappresentare il comodo viaggio di rientro verso casa, contrattempo per fortuna senza gravi conseguenze, ieri sera per una comitiva di padovani appassionati del genere, costretti ad una lunga pausa forzata sulla via del ritorno da Cima Larici, a causa del blocco della corriera turistica su cui erano seduti in 57, incastratasi in un tornante. Una volta resosi conto del problema irrisorbibile in autonomia, l'autista alle 18.30 ha chiesto aiuto al 115, vista l'impasse, ma anche per la situazione di potenziale pericolosità, costruendo di fatto il passaggio di altri veicoli sul tratto di strada, problema risolto con l'aiuto dei vicini del fuoco, ha visto l'autobus turistico rimanere incastrato con lo sbalzo posteriore su una curva stretta, i pompieri arrivati da Asiago sono riusciti ad alzare le ruote del bus con dei cuscini pneumatici, posizionando dei cunei di legno sotto le ruote, un'operazione da protocollo che ha permesso all'autista di completare la manovra e rimettere il pullman in strada.